Tutto questo è fantastico! Le persone iniziano a lasciare le loro case per essere testimoni con i loro occhi di questo strano fenomeno. Ehi gente! Se vi avvicinate abbastanza riuscirete a sentire qualcosa. Un battito cardiaco? Oh, oh, oh! Aiuto! Aiutatemi! Che cosa sta succedendo? Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Dov'è finito il lampione? Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Ehi, mostro schifoso! Ti mostro come ci sbarazziamo della spazzatura in Texas! Oh, oh! Oh, oh! Oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Salve, io Germania e volete salutare Fer Di Gallo. Ciao Fer Di Gallo, ti aspetto in Germania. Ciao, io invece sono Watson e ci tenevo a salutare Ale Papero 123. Ciao Ale Papero, io e Sherlock ti aspettiamo per fumare il bong insieme e non mancare. Allora, io che sono Sal ci tenevo a salutare Generale Duo Siciliano Italico e anche Giuliana Valentini. Ciao ragazzi, se volete venirmi a sfidare vi aspetto nella mia arena. Oh 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 oh.